La polizia ha caricato più volte i manifestanti che dopo lo sgombero di quattro alloggi atero occupati abusivamente si erano spostati sotto la sede dell'ente per l'edilizia residenziale pubblica di Padova cercando di fare eruzione. La protesta era iniziata qualche ora prima in via delle melette quartiere palestro quando la polizia su ordine della procura è entrata per sequestrare gli appartamenti occupati da anni da alcuni giovani dell'area antagonista della sinistra padovana. Otto persone risultano per questo indagate. In uno degli appartamenti i ragazzi hanno cercato di impedire l'ingresso. Nei momenti di tensione una giovane è rimasta ferita al sopracciglio da una porta. All'interno dopo una perquisizione sono stati ritrovati tirapugni, manganelli telescopici, qualche razzo bengale delle ricce trasmittenti. Questa mattina mi hanno sfondato la porta senza chiedere il permesso diciamo. Mi hanno sfondato la porta, noi abbiamo avuto un attimo di rabbia. Sostanzialmente adesso siamo una decina di persone buttate fuori di casa più o meno tra diverse situazioni, tra le più disparate, chi è precario, chi studia all'università. Dopo gli scontri via delle melette anche sotto la sede dell'Ater ci sono state diverse cariche della polizia. Il bilancio finale parla di due poliziotti e due carabinieri feriti. Tra i ragazzi si contano una decina di contusi. Durante le perquisizioni negli appartamenti sono stati trovati anche pericolosi allacci abusivi alle utenze. Una volta sgomberati gli alloggi saranno riconsegnati all'Ater che provvederà a ristrutturarli e a metterli in graduatoria per assegnarli. Grazie a tutti.